Questo tavolo che è stato avviato sulla base delle indicazioni e delle sollecitazioni dei sindacati che ringrazio, la CGL e la CISL che hanno mosso qualche mese fa questo percorso, hanno mosso questa azione che stiamo portando avanti come città capoluogo, mettendo a rete tutti i sindaci interessati del territorio, la provincia di Teramo, perché ci sia intanto una forte vertenza territoriale e politica istituzionale di un territorio che è stato troppo penalizzato e considerato non prioritario nell'azione che la Regione ha messo in atto nel corso di questi anni, non ne voglio fare neanche una questione politica, c'è stata una percezione che il problema e la questione dell'automotive fosse limitata solo e esclusivamente all'era del Chietino. Così non è, è forte, è fortissima l'incidenza diretta e indiretta del settore automotivi sulla nostra provincia e quindi deve essere assolutamente una priorità, ecco perché sederci tutto intorno a un tavolo ci consentirà di sviluppare un piano di azione che metta al centro anche l'area che potrebbe anche essere definita, legata al cratere, un'area di crisi complessa, che metta al centro la formazione, che metta al centro azioni anche di agevolazione per tutto il settore, che in questo momento è in sofferenza e in difficoltà anche nella fase della cosiddetta transizione che si sta vivendo e che dobbiamo governare per non subirla. E poi anche le infrastrutture legate sia al rapporto con Arap, ma anche le infrastrutture territoriali che non sono state sviluppate nelle loro potenzialità, pensiamo in particolare agli autoporti e interporti delle varie parti del territorio abruzzese che al momento non hanno una vera e propria identità e non vengono sviluppate proprio per potenziare un settore nell'ambito di una riqualificazione industriale complessiva verso la quale stiamo andando.